Perché noi siamo accantonati con uno stipendio misero e non riusciamo ad arrivare a fine mese quando tutti hanno alzato le bollette, l'IVA, le medicine, tutte queste cose? Perché? Perché noi no? Anche all'attivo unitario di Como, i lavoratori del terzo settore della sanità privata hanno rilanciato lo sciopero nazionale del 16 e del 23 settembre prossimi. Sono lavoratori che si trovano a combattere ogni giorno con una situazione sempre più difficile, tra turni e salari ormai al limite e contratti ancora fermi. Perché oggi stiamo parlando di lavoro povero, di lavoratori poveri, lavoratori professionisti che guadagnano meno di 1200 euro contro imprenditori ricchissimi. Basti pensare che la regione Lombardia all'RSA ha dato 40 milioni di euro e neanche un centesimo di questi 40 milioni di euro di profitti sono entrate nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori. Molte persone iniziano il nostro lavoro con tutta la passione, ma poi quando arrivano le prime buste paghe non riescono a far combaciare perché magari hanno figli eccetera eccetera, come glielo io ed è veramente difficile a volte arrivare anche a metà mese. Tutti pretendono, peccato che i salari non aumentano, però devono arrivare anche a un punto che noi viviamo e dobbiamo pagare le bollette, abbiamo un mutuo a casa, noi abbiamo anche una famiglia. E gli aumenti proposti dalle imprese sono quasi offensivi. Perché 50 euro in busta paga sono 30 euro e 30 euro non riesci neanche a fare la spesa del pane e del latte. Ci troviamo a dover affrontare i doppi turni, ma soprattutto anche condizioni economiche non adeguate all'aumento dei costi della vita che ci sono stati. Il lavoro sta diventando pesante per chi lo fa e siamo in un ambito che lavoriamo con persone e dunque diventa pesante anche per le persone che comunque dobbiamo gestire. Il lavoro è diventato pesante perché le imprese pagano pochissimo, diventa sempre più difficile trovare persone che accettino queste condizioni e quindi gli organici sono sempre più risicati compensati da carichi di lavoro insostenibili. I lavoratori sono ormai allo stremo delle forze perché gli operatori sanitari ormai non riescono più a gestire la loro vita con i turni massacranti, con i salari bassi. Sono situazioni che alla lunga stancano e rendono difficile anche perché poi si arriva a casa anche nervosi, quindi anche nella vita privata a volte non è bello sicuramente, quindi serve assolutamente un intervento importante da questo punto di vista. Comunque abbiamo una dignità, siamo delle persone, non siamo degli oggetti. Dunque vogliamo un minimo di dignità di avere il nostro giusto salario che ci aspetta e lavorare tranquillamente perché comunque lavoriamo con persone. Adesso siamo veramente stanchi, siamo stanchi di questa situazione, vogliamo un contratto unico. Perché un contratto unico? Semplice, perché nel settore sono applicati differenti contratti negli stessi contesti, con il risultato che alcuni aspettano nel rinnovo da 5 anni, altri da 9, altri ancora addirittura da 12 anni. Questa disparità di contratti fa sì che operatori che fanno lo stesso lavoro sono pagati in modo differente e non è soltanto un problema economico, è un problema di carichi di lavoro, è un problema anche di indennità. E come se non bastasse, le imprese del settore piangono miseria e battono cassa chiedendo aiuti alla regione che già versa consistenti risorse. Regione Lombardia paga lautamente questi imprenditori. Gli imprenditori devono fare altro e non risparmi sui dipendenti, visto che le rette dell'RSA sono a prezzi stellari. Le aziende, comunque l'RSA, si nascondono dietro a mancati incassi, aumenti dell'energia elettrica, comunque dei costi e con le rette che non sono adeguate a coprire questi costi. Noi della Will FPL lanciamo un forte messaggio a Regione Lombardia. Basta con gli accreditamenti alle RSA o alle strutture private che non rinnovano il contratto.